andiamo a cantare favola dove volevo salutare a Maria Teresa, Giovanna, Luigi Lettieri, Francesco D'Amburro, Federica Landi che ci stanno seguendo, un bacione anche da parte mia, prendiamo un attimo la diretta e poi canti va benissimo, diciamo pronto, è caduto Sassà, signori per voi Sassà Giordano e favola volevo dire anche un bacione a Rosara Madrone che ci sta seguendo, vai Sassà Giordano 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 E correremo cinque frati su E ci ameremo sempre un po' di più E ci doniamo abbracciati e te Tutto lì sempre tu e te La nostra storia non può mai voler dire La nostra storia è sempre un favola Come bel guantava La nostra storia poi triunferà E il tuo castello vuol già mai usare E correremo cinque frati su E ci ameremo sempre un po' di più E ci doniamo abbracciati e te Tutto lì sempre tu e te La nostra storia è sempre un favola La nostra storia è sempre un favola Come? So Ancora un basso posto a Dania Arsenio della LL Music Ok scusami Sasa stavo prendendo messaggi No non mi dire niente Non ti dico E allora Questo messaggio è per te Lo leggi in diretta prima che si saluti Ciao Sasa un bacio a Terenza Ti voglio bene Vita Vita Un bacio a Terenza Un bacio a Terenza Un bacio a Terenza Sasa mi potessi dedicare una tua canzone Piacere Ti ho dedicato Favola Un bacio a Terenza Un bacio a Terenza Un bacio a Terenza C'è diretta Pronto? Pronto Ciao Buonasera Ciao sono Lucia da Mestogliano Buonasera Buonasera Te so dici Ciao Sasa Sono Lucia da Mestogliano Ciao Lucia tutto bene? Tutto bene E mi dedichi la prossima canzone? No devo andare Lucia devo andare Non c'è tempo La prossima volta vai E va bene E la prossima volta Ma te la dedicava la canzone che ha cantato prima Andava dedicata anche per Favola tutta per te Ok grazie Ciao ciao E tu Gianni mi dedichi una canzone a piacere tua Ti ringrazio dopo te la dedico subito va bene? Grazie un bacione a te e tutta la tua famiglia Saluto a te e tutto lo staff Ti ringrazio di buona Buona volta ciao E allora leggiamo l'ultimo messaggio e poi fai i saluti Buonasera Gianni Buonasera Sono Giuseppe Biondi Sto registrando la puntata alla grande Sasa meriti tutto il successo di questo mondo Forza Sasa Ciao un bacio porto a Giuseppe Ok Ci vediamo alla prossima Sasa io ti ringrazio per la tua ospitalità Di niente Un bacione a te Un bacio porto ancora a te A papà e a mamma E ho avuto il piacere di conoscere il tuo nonno È una persona meravigliosa Veramente una persona meravigliosa Grazie Voglio porto ancora ad Anna e a Seno Longo Ciao a tutti Ciao buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti